È stata una vittoria importante, una vittoria che sentivo e quindi mi sento di ringraziare i miei concittadini che mi hanno ancora dato fiducia. Spero di poterla ricambiare nei prossimi cinque anni. Ringrazio chi è stato con me, ringrazio anche i tre purtroppo che non potranno partecipare con noi al prossimo Consiglio Comunale perché la legge impone che tre consiglieri devono stare fuori, tre consiglieri rispettano l'opposizione. Comunque noi ci apprestiamo a governare con serenità e tanta volontà i prossimi cinque anni. Ringrazio ancora i cittadini di San Lorenzo che ci vogliono bene. Io sono nato qua, è una forma quindi sono orgogliosamente di San Lorenzo, ci tengo tantissimo a questo paese e sarò disponibile come sempre con loro come ho fatto i cinque anni a dietro. Grazie.